Sale l'allarme sicurezza nel Vallo di Diano. Martedì sera nel mirino dei malviventi un bar tabacchi di Atena Lucana dove due persone armate e con il volto coperto si sono introdotte nell'attività verso le 20 e 30. E' successo tutto in pochi minuti. Il proprietario, accortosi che nel suo locale stavano entrando due persone incappucciate e corso in cucina per prendere un'arma e coglierli di sorpresa da dietro. Ma nel frattempo i due si sono avvicinate alla cassa, hanno prelevato una piccola somma di denaro e poi sono stati messi in fuga dalla nonna del titolare che inizialmente non aveva capito chi avesse di fronte. Iniziata la corsa fuori dal locale, il proprietario non è riuscito a fare altro se non vederli scappare via in una macchina che, come lui stesso riferisce, era stata posizionata strategicamente per poter fuggire indisturbati. E' stato un attacco premeditato, afferma il titolare del Bartabacchi di Via Nazionale. I due sapevano come muoversi nel locale e sapevano anche che a quell'ora avrebbero trovato poche persone all'interno. Il tutto, infatti, si è svolto sotto gli occhi di due clienti che però, anche per la velocità con cui è stato portato a casa il colpo, non hanno saputo fornire particolari dettagli sui malviventi, sulle cui tracce ci sono invece gli uomini della compagnia di sala Consilina che, grazie alle telecamere di videosorveglianza, stanno cercando di risalire alle identità dei due uomini. Nessuno è al sicuro, afferma il franto e il titolare dell'attività vittima del colpo. Girano per il quartiere, studiano la situazione e poi colpiscono.